Ciao a tutti ragazzi eccoci qui con la seconda missione dell'atto 3 quindi niente godiamocela spero che duri più di 15 minuti stavolta perché veramente sono delle missioni che durano cioè la scorsa la missione 1 dell'atto 3 è stata davvero corta cioè veramente cioè 9 minuti di missione ok vabbè che io sono abituato comunque ad andare abbastanza veloce in questi giochi a parte bene naturalmente i primi livelli che sono quelli dove ti devi un po' abituare allo stile di gioco però cazzo mi starete chiedendo ma perché sparo due colpi perché io questa missione la stavo registrando prima ma sono morto tante di quelle volte che l'ho voluta rifare questo qui non muoiono in un colpo si vede che oggi non avevo tanti proiettili qualcosa che cazzo ne so non muoiono in un colpo a girare attorno come se fosse facile li sto camminando di fianco ok ho detto di buttarmi nell'acqua purtroppo tanti aspetti di questo gioco non sono fatti bene cazzo ne sta arrivando uno dicevo molti aspetti non sono fatti benissimo cioè vedete anche il fatto che siamo stati di fianco a loro prima e non ci hanno visti cioè veramente devo andare lì sono girati all'indietro quindi facciamoci una corsa cazzo c'ho solo più dodici colpi cazzo di lingua parli cazzo che schietti c'è uno dietro di noi che non ci ha visto ma se non schiaccio x facciamo prima spararli ok boh raga ho finito i colpi c'erano solo più nove a meno che non arrivo sopra e mi danno un bazooka non so come cazzo andare avanti cazzo ah ecco il mio fucile ok quindi oh madonna saranno per beccare eeeh ok quindi devo uccidere ah devo ripulire l'aria dai esci fuori faccio vedere la tua bella testolina di cazzo cazzo l'hanno visto Ah ok, no, c'è L'ha ammattato lui l'altro, perfetto Ok, devo mettermi quasi a cecchinare, penso Ah, prima quello laggiù Niente, mi hanno beccato Cazzo, mi stanno venendo a prendere però Arrivano da qui Madonna, sono morto, che idiota Eh vabbè, rai, è nata così, dai Troppo quei duro acciccati, quella grande Lasciamo che si girino, ammazziamo questo Oh, finalmente Quello del tronco Una campana? Ah Ah, brutto Il fuggire usciva tal cosa Ok, rai, già l'abbiamo fatto, dai Lo devo fare tutto io, lo stonzo non ha fatto una minchia, però Ok, dai E' bello questa ambientazione, un po' strane Ok, si, si, raccolte Ah, do' piazzarle qua E' proprio invisibile però, porca Eva Non andrebbe mai nessuno a controllare lì Ok, le caratteristiche sono stati Ok, andiamo Prenderemo le caratteristiche quando abbiamo qualche distanza Oh, madonna che scatto Dov'è? Dov'è? Prima deve salire il ciccione Eh, minchia, go, eh, mi dai un attimo Stronzo pezzo di merda Minchia, che palle Sta colorando tutto Eh, minchia, ti fermi lì, cazzo, si inchioda Chia, che scatto Abbiamo fatto una grafica leggera Poi abbiamo fatto degli effetti speciali Che fanno andare a scatti Un po' più pazzeschi Perché come al solito C'è ora qualche programma che rompa le palle Però Non posso neanche più correre C'ho i battiti a mille Troppo ragazzi Sto cercando di cambiare il computer Quindi Spero di riuscirci Anche se non sarà facile No, volevo ucciderlo Ok, ci abbiamo fatto a scappare da Lo sto cimitero Ok, c'è, raga Dato tre Due missioni, due delusioni Cioè dieci minuti l'una Sono durate Vabbè, niente Vi lascio qui Precisione generale 95% comunque Mi sono Mi sono Mi sono allenato Comunque, raga Niente Per questa Per la missione due Dell'atto tre Di Sniper Ghost Warrior Due È tutto E ci vediamo Alla terza missione Grazie a tutti